In sintesi, alcuni dei servizi andati online negli ultimi giorni. La settimana di Ravenna Web TV è iniziata l'insegna dello sport con una sintesi degli incontri di basket, calcio e pallavolo. L'ACMA Ravenna sconfitta in casa dalla Zefa Marostica e Ravenna Calcio ha invece vinto al Benelli grazie a due rigori di Chianese Catturano. Infine la Robur Marcegaglia ha vinto al Palacosta con un bel 3-0 contro i milanesi di Chevanca. Fede e religioni. Lunedì si è concluso il corso di formazione del Cesano. Dopo sei appuntamenti presso la chiesa dei Santissimi Simone e Giuda. Mentre il 16 novembre è stata celebrata la festa del sacrificio, festa principale della religione islamica. Questa settimana grande spazio è stato dato alla protesta degli studenti contro la riforma Gelmini. Rispetto ad incontri e conferenze siamo stati all'incontro con il magistrato Raffaele Cantone, simbolo dell'antimafia, e alla presentazione del premio Confesercenti 2010, giovedì alla premiazione del Guidarello Giovani e sabato alla 39esima edizione del premio Guidarello per il giornalismo d'autore. Se vuoi approfondire le news presenti in questo flash, vai al servizio online.